Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 16 luglio. Ariete, giornata agitata con la luna in cancro che farà scorrere impetuosa l'onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano. Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica, spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante. Rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione, date tempo al tempo. Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con vehemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che vi girano intorno. Prestate attenzioni alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano perché indicheranno il cammino. Cancro, mercurio nel segno fa boccacce a Plutone. Sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare. Siate saggi. Ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione. Leone, con Saturno contro i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così. Lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande. Vergine, complice la luna in cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione. Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe solo averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e non perdere tempo. Scorpione, Giove e contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione. Meglio non cadere in errori di valutazione. Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 8 potreste ritrovarvi a trasferire la vostra residenza. Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio stile e a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità. Capricorno ha qualche piccola delusione in arrivo in amore. Venere e Giove contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensioni o distrazioni. Saturno ci metterà poi lo zampino, aumentando il rigore, il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore. Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del cancro e la vostra mente ne viene stimolata con un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte, anziché di quelle tecnologiche e scientifiche. Ciao a tutti. Grazie a tutti.